ciao ragazzi comunicazione e servizio ricordate che tempo fa avevo fatto una recensione che riguardava la eco nano pro per chi di voi ancora non l'avesse vista mi invito ad andare a vedere su mio canale se lo vado con Fabio comunque quando ho fatto la precedente recensione avevo comunicato che a breve avrei fatto una seconda recensione dove avrei fatto vedere questa xrox nano purtroppo c'è stato un disguido pertanto non potrò portare la recensione di questa nuova xrox nano in quanto Vaporesso ha pensato di destinarla ad altro mercato e non al mercato italiano pertanto purtroppo non potrò farvi vedere questo nuovo prodotto di casa Vaporesso anche se non testato e devo dire è veramente veramente funzionale è un bel prodotto mi dispiace per l'annuncio che avevo fatto precedentemente come sono solito dire vi invito a iscrivervi al mio canale a voi questo assolutamente niente per me è importante e vi saluto alla prossima ciao a tutti